Dopo il grande successo da Menchetti, Agnese Fioretti, la scrittrice, è venuta da noi a raccontarci un po' come è andata questa esperienza con gli Aretini per presentare il suo libro, edito da Giunti, La voce di Pietro. Intanto, perché La voce di Pietro? La voce di Pietro, perché Pietro è appunto un bambino nello spettro autistico non verbale e quindi io sono un po' diventata la voce di mio figlio cercando di raccontare la nostra storia e di permettere a chi non conosce lo spettro di capire che cosa significa viverlo. Sono stata comunque molto felice di presentare ad Arezzo perché appunto mio marito è Aretino, quindi metà della nostra famiglia è di Arezzo e quindi in un certo senso è stato come giocare in casa e tornare a casa. Quali sono le maggiori problematiche che deve affrontare una famiglia con un figlio disabile? È strano dirlo però non riguarda il presente, riguarda il futuro perché per me la problematica più grande è quello che si chiama il dopo di noi, cioè la vita di queste persone che sappiamo non potranno essere autonomi, indipendenti, quando i genitori non ci saranno più oppure non avranno possibilità di prendersene cura. E quindi quali sono le vostre proposte? Le nostre proposte sono quelle di costruire qualcosa di stabile e soprattutto che sia presente su tutto il territorio, è importante non lasciare che ci siano magari delle realtà virtuose in alcune zone e poi ci siano dei territori un po' più scoperti perché tutti noi, tutti questi ragazzi e tutte le famiglie hanno diritto ad essere aiutati.